Se segui i miei video, sai che il mio secondo sistema operativo preferito dopo Linux è il DOS. In questi giorni è uscita un po' in sordina la versione 1.3 di FreeDOS. Andiamo a provarla! Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. A differenza di molti che provano FreeDOS in una macchina virtuale tipo Fiat Manager o VirtualBox, Visto che FreeDOS è un sistema operativo pensato per il retrocomputing, io provo a installarlo usando l'emulatore PCM, emulando un 486 DX2 a 66 MHz con 32 MB di RAM e 8 GB di hard disk. Subito, il primo problema che incontro è che sebbene il BIOS rilevi correttamente l'hard disk da 8 GB, FDisk, che sarebbe il tool di partizionamento di FreeDOS, me lo vede solo come un hard disk da 504 MB. Se hai a che fare con il retrocomputing, devi sapere che a seconda della macchina e soprattutto del BIOS che utilizzi, troverai dei limiti sulla dimensione massima di hard disk utilizzabile. La cosa strana qui è che visto che il BIOS ha visto correttamente l'hard disk da 8 GB, mi aspettavo che anche FDisk vedesse tutti gli 8 GB dell'hard disk, visto che DOS fa proprio chiamata al BIOS per accedere all'hard disk. Fatto sta che esiste un modo per raggirare questa limitazione e si tratta di utilizzare il software OnTrack Disk Manager che trovi facilmente sul sito di Fills Computer Lab. OnTrack Disk Manager richiede però un disco di avvio di Windows 95 OS R2 oppure di Windows 98. Io ho usato il disco di avvio di Windows 98 seconda edizione scaricato dal sito allbootdiscs.com. Funziona in questa maniera. OnTrack Disk Manager viene installato nel masterboot record dell'hard disk e si sostituisce al BIOS per quanto riguarda l'accesso dell'hard disk da DOS. A questo punto fa credere al sistema operativo che l'hard disk inizi qualche byte dopo e quindi crea un nuovo masterboot record e già che c'è crea anche una partizione fatta 32 da 8 GB che sta formattando. Una volta che si è installato assicurati che stai facendo boot da hard disk. A questo punto se premi spazio puoi fare boot da floppy e installare FreeDOS normalmente. Un piccolo dettaglio scomodo che trovo è che l'interfaccia dell'installer è poco responsiva ma a parte questo l'installazione va liscia come l'olio. Un'installazione completa di FreeDOS ci mette circa un'ora. Finita l'installazione, al riavvio del sistema, abbiamo subito un menu di boot per scegliere il gestore di memoria da utilizzare. Ho già parlato della gestione delle memorie sotto DOS nella mia saga dei 640K, in particolare il video Liberiamo i 640K. Il secondo problema che noto è che il CD-ROM non è configurato ed inoltre mi ritrovo con la tastiera americana nonostante in fase di installazione abbia specificato quella italiana. Se andiamo a vedere il file fdauto.bat, l'equivalente FreeDOS dell'autoexec.bat vedi che c'è una chiamata a vinfo barra m e vengono eseguiti i comandi specifici del 386 in su solo se il comando vinfo barra m ritorna 3. Proviamo ad eseguire il comando vinfo barra v barra m. Quel barra v significa semplicemente verboso. E vedi che mi ritorna 8186 al posto di 8486. Abbiamo trovato il colpevole. A questo punto basta andare a editare il file fdauto.bat e commentare la chiamata vinfo e saltare forzatamente alla sezione per 386. Tra l'altro che bello è poter usare l'editor vim anche sotto DOS. Riavviamo quindi e ora abbiamo sia il supporto al CD-ROM che alla tastiera italiana. Ah, una cosa che mi ero dimenticato di fare sempre nel file fdauto.bat. FreeDOS, oltre che supportare la FAT32 e quindi partizioni superiori ai 2GB, supporta anche i nomi di file lunghi, ma per questo supporto è necessario caricare un driver. Nel file fdauto.bat è già predisposto tutto, basta solo scommentare questa linea e riavviare. Già che c'ero ho anche installato qualche vecchio gioco DOS per provare, anche se non l'ho mostrato in video. FreeDOS ha un package manager chiamato fdimpulse, quindi se vogliamo installare qualche nuovo pacchetto, basta inserire il bonus CD nel lettore gd-rom e dare il comando fdimpulse. Come è già successo per il programma di installazione, anche fdimpulse è poco responsivo e non me ne capacito visto che si tratta di applicazioni testuali. Fatto sta che possiamo trovare diversi programmi raggruppati in categorie. Per esempio, visto che le vecchie versioni di MSDOS avevano il GVBASIC, io ora andrò a installare il BVBASIC, giusto come esempio. Voglio anche mostrarti che nella categoria Utilities esiste il programma RAVWRITE, che scrive un file immagine su floppy e RARID, che legge un floppy e scrive un file immagine. Per intenderci, per file immagine non intendo roba tipo png o jpg, ma intendo dire l'intero contenuto del floppy, compreso il settore di boot, scritto tutto in un unico file. Molto comodo se hai un vecchio computer e vuoi fare una copia di backup dei tuoi floppy. Diamo un ok per installare il tutto. FreeDOS include due file manager testuali. Quello che mi piace di più si chiama DOS ZIP Commander e lo avvii col comando DZ. Se hai già usato un Horton Commander, Midnight Commander o, perché no, anche il mio R&R, l'interfaccia dovrebbe esserti familiare. Andiamo a curiosare nella directory APPS. La directory DN2 contiene DOS Navigator, che è l'altro file manager testuale incluso con FreeDOS. Proviamo ad avviarlo. E vedi che non è poi tanto diverso da DOS ZIP Commander, ma io personalmente lo trovo troppo pesante e lento. La maggior parte dei programmi contenuti in APPS sono editor di testo e ce n'è veramente per tutti i gusti. Per esempio troviamo FED, che è l'editor di testo preferito da Jim Hall, l'autore di FreeDOS. Oppure abbiamo OSP Edit, che ricorda l'editor Turbo C di Borland. C'è anche SetEdit, che non vado ad avviare, ma anche lui ha un'interfaccia molto simile al Borland C++, con tanto di sintassi colorata. E ovviamente c'è anche Vim, che abbiamo già usato per modificare il file fdi auto.bat. Nelle directory Devel troviamo il BVBasic, che abbiamo installato un attimo fa. BVBasic è un interprete basic abbastanza scarno, che non supporta la modalità grafica, che invece supportava già il GVBasic nel 1981. E quindi purtroppo manca la compatibilità con la maggior parte dei giochi basic. Nelle directory Games abbiamo i giochi inclusi con FreeDOS. Abbiamo due versioni di Freedom, due versioni di Tetris, due versioni di Disney Snake, e immancabili c'è anche Flappy Bird. Voglio andare nella directory Freedom, non tanto per mostrarti il gioco, quanto per mostrarti due funzionalità di DOS ZIP Commander. Il file lfnfiles.zip, intanto è un archivio compresso, e vedi che DOS ZIP Commander lo apre tranquillamente. Ma all'interno dell'archivio ci sono dei file con nomi lunghi. Una volta scompattati i file, è possibile visualizzare i nomi lunghi andando a cambiare un'opzione. Andiamo ora a provare qualche gioco, giusto per testare la compatibilità di FreeDOS con i vecchi giochi, iniziando da Wolfenstein 3D. Parte senza problemi, non avevo dubbi. Già che ci siamo, proviamo anche Doom. E anche lui, gira che è una favola. Ma John Carmack i giochi li sapeva scrivere bene, quindi ci mancherebbe che i suoi giochi non girino ovunque. Proviamo piuttosto Falcon 3, che richiede un casino di memoria convenzionale libera. Fantastico, anche lui gira. E nota quello avviato da DOS ZIP Commander, che per quanto poca occupa anche lui della memoria convenzionale. Riavviamo e scegliamo l'opzione Gem386, che ci dà la memoria espansa che serve per il gioco Aladdin. Avviamo il gioco. E vedi che anche lui parte senza problemi. Riavviamo di nuovo. Una cosa che non ho detto è che ho installato a parte il gestore di memoria RDoS UMB ed ho modificato il file fdconfig.sys per avere la voce numero 6 che avvia per l'appunto RDoS UMB, permettendoci quindi di caricare i driver in memoria superiore mantenendo il processore in real mode. Se non hai capito niente di quello che ho appena detto, ti consiglio di guardarti i miei video della saga dei 640k. Fatto sta che questo programma serve per far funzionare i giochi Turrican 2 e Ultima 7, che sono notoriamente difficili da far partire. Iniziamo da Turrican 2. E parte senza problemi. Fantastico. Come si comporterà Ultima 7? Questo purtroppo crescia. Peccato. In conclusione, cosa ne penso di FreeDOS 1.3? L'esperienza è stata con più ostacoli di quanto avrei voluto. A partire dal fatto che se il BIOS vede l'hard disk da 8GB, perché FreeDOS ne deve vedere solo 504? Poi, il processore non è stato individuato correttamente e questo ha richiesto un intervento manuale. Il programma di installazione e il package manager sono poco responsivi, nonostante siano applicazioni testuali. Il mio sospetto è che chi ha scritto questi programmi li ha scritti in una macchina virtuale e i computer odiarni sono talmente veloci che non ti accorgi di nulla. La compatibilità con i vecchi giochi, infine, per quanto buona, non è al 100% come abbiamo visto con Ultima 7. Bocciato, quindi? Assolutamente no. È bellissimo avere un DOS open source che supporta la FAT32 ed i nomi lunghi ed è compatibile con quasi tutti i giochi. DOS Zip Commander, per quanto non comodo come Volkov Commander, funziona molto bene. Poi, un DOS che mi installa Vim come editor per me ha già vinto tutto. Infine, tutti i programmi contenuti nel bonus CD funzionano non solo su FreeDOS, ma anche su MS-DOS e DOSBox. E questo lo trovo utilissimo. Per esempio, se voglio scrivere un gioco DOS nel linguaggio C, posso scrivermelo tranquillamente sul mio PC con Linux, poi installo il compilatore Wattcom su DOSBox e compilo tutto da lì. Infine, posso prendere l'eseguibile generato e lo faccio girare su un vecchio PC. Oppure, ho un PC con sopra MS-DOS per avere il massimo della compatibilità con i giochi e posso installarci sopra tranquillamente Vim e DOS Zip Commander, per dirne due, dal bonus CD di FreeDOS. E funzionerà tutto. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! File FD8.bat del DOS. Che cazzo sto dicendo? Sp遠 FD8.bat del DOS. In Ciencia